Allora, oggi vogliamo cominciare a studiare il problema di massimizzazione o di minimizzazione di una funzione continua su un compatto di ARN. Allora, diciamo che il problema nostro sono l'a, più o meno, in questo mondo, tra l'altro tipo, noi avremo il problema del massimo f su t, dove f è una funzione che va da un rapporto A di ARN, A valori in F, F partenente a C0 di A, A detto, e poi t, in genere, insieme degli x, partenente a Fn, tali che, e qui avremo un set di disequazioni, F1 di x meno uguale a 0, Fn di x meno uguale a 0, dove queste in genere sono funzioni continue, almeno continua, quindi avremo che questo insieme è naturalmente chiuso, perché questi sono, diciamo, gli insieme delle x che soddisfano queste equazioni sono tutti chiusi, l'interfezione di numero in frito di più è chiuso. Se questo insieme è anche limitato, t è compatto. Allora, per il teorema di Weistras, noi abbiamo una funzione continua su un insieme compatto, questa funzione aumenti massimo e minimo. Facciamo un esempio molto semplice, io posso avere in R2 l'insieme dei punti che stanno al di sotto di una retta all'interno di un cerchio, questo è il mio t, no? Per esempio, posso avere, supponiamo così, se il cerchio di centro origine di raggio 1 insieme delle x e y, perché stiamo in R2, mettiamolo come vettore, tali che x quadro più y uguale, minore o uguale di 1, e poi facciamo minore o uguale un esempio. Allora, per esempio, se vogliamo determinare meglio questo insieme, possiamo andare a valutare le coordinate di questi due punti. Se vogliamo valutare le coordinate di questi due punti, nell'esempio cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a scrivere y uguale a x più 1 a mettere, cioè al sistema, non le disequazioni, ma le equazioni. Perché qui stiamo sulla frontiera del cerchio e sulla frontiera di questo semipiano. Quindi otteniamo 4 più y uguale a 4, quindi 2x quadro più 2x più 1, diciamo, meno 3 uguale a 0, e poi che risolvete le equazioni del secondo grado, ritrovate la coordinata x e quindi poi anche la coordinata y di quei punti. La figura può non essere fatta bene. Una volta fatto questo, abbiamo più o meno anche quando possiamo dare una descrizione geometrica in t. Però t è già descritto in questo modo. A questo punto noi possiamo prendere una funzione, per esempio, definita su tutto R2, da R2 in R, quindi definita anche su t, e possiamo andare a cercare di fare il massimo o il minimo o il minimo di x. Qual è il problema? Il problema è diverso sostanzialmente rispetto all'analisi 1. L'analisi 1 normalmente tira un intervallo, io per trovare i punti di massimo o di minimo, se la funzione è derivabile, vado a imporre che i punti siano derivati a nulla, non siano stazionari, quindi vado a cercare i punti di massimo e minimo dove, se vi ricordate il teorema di Fermat, andavo a cercare tra i punti stazionali, i punti dove non c'era la derivata e gli estremi dell'intervallo. Ma questi ultimi due insiemi in genera un numero finito di punti. Pensate ad esempio alla funzione valore assoluto. Il minimo sta in 0 dove la derivata non c'è. Per esempio sull'intervallo meno 1, 1, il massimo sta in meno 1 e 1 che erano gli estremi dell'intervallo. Però parliamo di tre punti da aggiungere agli eventuali punti stazionati. Quindi si trattava di fare un numero finito di confronti e finiva. Il problema è che il massimo di questa funzione, la funzione F, a seconda della funzione F, potrebbe stare all'interno di T, ma potrebbe stare anche sulla frontiera. E allora come facciamo? Una frontiera stavolta è costruita da infiniti. Allora come facciamo a individuare, qualora il massimo sia sulla frontiera, quali sono i punti dove può stare il massimo. Non solo, le condizioni per capire se c'è un punto di massimo per esempio qui o se c'è un punto di massimo qui, intuitivamente non sono le stesse. Perché qua la frontiera, diciamo almeno intuitivamente in qualche modo è liscia. Qua no. Quindi dobbiamo capire un po' meglio come affrontare questo problema. Ok? Per capire un po' meglio come affrontare questo problema facciamo una premissa di caratteristica. Andiamo a prendere una funzione, per esempio, prendiamo una funzione di 5 variabili. F di x y uguale 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 y uguale. Un caso molto semplice in cui la funzione è un polinomio di grado 2, anche omogeneo in realtà. Allora, se vi ricordate, adesso questa funzione va da R2 in E. Questa è definita su tutte le lingue. Ok? Quindi, se io qua disegno R2, eh, disegno R2, eh, cosa sto disegnando? Solo il dominio della funzione. Quindi R2 è il dominio della funzione. Ovviamente prendo una funzione di due variabili perché altrimenti ho difficoltà a disegnare il dominio. Eh, se la prendo di tre variabili, il dominio sta in R3, lo riesco ancora a disegnare, però devo disegnare sulla lavagna, quindi c'è un problema di rispettiva. Se la prendo addirittura con più di tre variabili, se la prendo addirittura con più di tre variabili, neanche il dominio disegnano più. Allora, noi intanto sappiamo che in questa funzione, se possiamo calcolare gradiente, il gradiente è meno 2x. Allora, per esempio, prendiamo il punto 1, 1, nel punto 1, 1, il gradiente, eh, la prima componente è negativa, la seconda è positiva, quindi i gradiente fa così. Lo faccio un po' piccolo, non lo faccio veramente lungo, meno 2, 2. La abbiamo, facciamo, facciamo, e la messa. Vediamo che questo è il punto 1, 1, no. La gradiente fa. Ora, cosa rappresenta questo gradiente? Se vi ricordate, questo discorso lo abbiamo già fatto in analisi 2, il gradiente rappresenta la direzione di massima pendenza, cioè la direzione verso la quale, per piccoli spostamenti, il valore della funzione aumenta di più. E se vi ricordate la formula di tello di più variabili, diciamo, chiamiamo W in Rn, perché x e x sono indicate le coordinate, non mi sembra opportuno indicare con x il vettore di Rn, allora qui abbiamo che f di un punto W uguale a f di W0, più il gradiente di f calcolato di W0, scalare di W-W0, più termine di ordine superiore a W-W0. Allora, vedete che se questo è il punto W0, se trascuriamo i termini di ordine superiore e ci teniamo soltanto l'approssimazione lineare della nostra funzione, partiamo da un valore f di W0 e dov'è che questo incremento si realizza, diciamo, nella massima quantità possibile? A parità della lunghezza dello spostamento. E qua, questo prodotto scalare è la lunghezza di questo vettore che è fisso per la lunghezza di quest'altro per il coseno dell'angolo compreso. E, naturalmente, il coseno dell'angolo compreso è massimo, vale 1, quando l'angolo è 0. Quindi vuol dire che se io mi sposto nella dimensione del gradiente, a parità di spostamento, l'incremento della funzione è maggiore. Quindi, di qua, la funzione cresce di più e se mi sposto in maniera ortogonale al gradiente, questo incremento è 0, poi bisogna andare a vedere i termini di ordine superiore. Se mi sposto nella direzione opposta al gradiente, il valore della funzione è la stascia in 0. Ok? Allora, come si può evidenziare meglio questa situazione? Allora, andiamo a considerare l'equazione y quadro meno x quadro. Allora, io ho preso il punto 1,1. Nel punto 1,1, f di 1,1 vale 0. Allora, andiamo a prendere questa equazione qua. Allora, questa è un'unità y quadro uguale a quadro, cioè, cosa mi dice questa equazione? Mi dice il luogo dei punti in cui la funzione assume esattamente lo stesso valore che nel punto 2,1,0. Questo si chiama cuba di livello. In questo caso, la mia cuba di livello si sdoppia in due rete. Allora, una rete è questa e una rete è questa. in generale, la mia cuba di livello se ci metto qua un'altra costante sarà un livello con quegli esempi. Però, quindi, per esempio, rifacciamo la situazione del punto 2,1. Quindi, il gradiente di f nel punto 1,1, abbiamo detto, è meno 2,2. Andiamo arrivare alla situazione del punto 2,1. Il gradiente di f nel punto 2,1, è uguale a meno 4,2. Quindi, se mi sposto qua, il mio gradiente è un po' più così. meno 4,2 Questo perché nel punto 2,1, f di 2,1 vale meno 3. Ok? Allora, andiamo a andiamo a scrivere x al quadro uguale x al quadro meno 3. Quindi, la y diventa più o meno la radice di x al quadro meno 3. Allora, qui abbiamo il punto 2 qui abbiamo il punto radice di 3 ovviamente per fare questa radice quadrata questo qui ho y uguale più o meno la radice quadrata di x quadro meno 3 bisogna che il radicante sia positivo quindi x deve essere maggiore di radice di 3 o minore di meno radice di 3 se andiamo a fare il disegno della nostra pergola ovviamente deve essere simmetrico quindi cerco di barcos simmetrico per quanto ci consentano le mie capacità ma più o meno fatta allora vedete che cosa succede com'è il gradiente rispetto alla curva di livello si capisce e si intuisce anche visivamente è ortogonale si vede che è ortogonale e perché questo deve essere vero? allora il problema è che innanzitutto noi dobbiamo capire come definire l'ortogonalità perché questa è una curva non è una vetta allora dobbiamo capire prima qual è la tangente però di persone tangenti ne abbiamo già parlato perché noi abbiamo visto che quando una curva noi curva in questo caso ne diamo sostegno quando un luogo geometrico è il sostegno di una curva noi abbiamo già definito il versore tangente anche se non l'abbiamo provato ma è lo stesso per qualunque valorizzazione regolare e il versore normale che poi è quello che è ortogonale quindi qua c'è un versore tangente alla curva di livello c'è una tangente e poi c'è l'ortogonalità allora se li segni ho fatto ok questo è il tangente e quello è il normale chiaro? e perché si capisce benissimo da questa formula perché quando io mi muovo sulla curva di livello per esempio dove mi sto muovendo? y quadro meno x quadro uguale meno 3 mi sto muovendo nell'insieme dei punti dove la funzione è costante curva di livello per definizione vuol dire che la funzione là sopra è costante in questo caso la mia funzione è f di x y qui sopra e qui sopra vale meno 3 allora indichiamo stavolta w0 questo punto qua allora quando io vado a fare f di w meno f di w0 deve essere costante però se io porto questo al primo membro f di w meno f di w0 è la somma di questi due incrementi questi due incrementi non hanno lo stesso ordine questo incremento di w meno w0 ha ordine 1 perché vedete è il prodotto scalare di w meno w0 con il vettore fisso questi quindi dipenderà dall'angolo ma questo incremento se l'angolo è diverso da 90 gradi è modulo di questo per modulo di questo per l'angolo del fisso se ci muoviamo in una direzione che faccia un angolo fisso con questo vettore a questo punto sarà di ordine esattamente modulo oppure norma lo vogliamo chiamare di w meno w0 non ne ho più idea questi altri incrementi invece di ordine superiore quindi i due incrementi non si possono compensare se lo spostamento è piccolo allora qual è l'unico modo affinché questo incremento sia nullo intanto si deve annullare questo poi si dovrà annullare pure questo ma intanto si deve annullare questo perché se questo non è nullo cioè se ci stiamo spostando in una direzione che non faccia un angolo di 90 gradi con lo spostamento questo incremento questo pezzo qui dell'incremento è un incremento di ordine 1 e altri pezzi di incremento di ordine 1 non ce ne stanno gli altri pezzi dell'incremento sono di ordine superiore quindi quando io mi sposto lungo la curva di livello questo pezzo dello spostamento se lo spostamento è piccolo deve essere 0 che vuol dire? vuol dire che se io faccio piccoli spostamenti sulla curva di livello partendo da W0 lo spostamento deve essere ortogonale a questo vettore ma piccoli spostamenti lungo la curva di livello sono spostamenti lungo la tangente diciamo il versore tangente dovete prima fare una paramellizzazione della curva di livello poi fai il versore tangente quindi una volta chiarete il versore tangente il gradiente della nostra funzione è ortogonale a questo tangente cioè sintetizzando il tutto il gradiente di una funzione è sempre di una funzione di classe C1 è sempre ortogonale alla curva di livello alle curva di livello in un punto prendete la curva di livello che passa per quel punto è sempre ortogonale quella curva di livello e allora uno dice torniamo al caso precedente alla curva di livello x4 uguale a 0 io la chiamo curva di livello però queste sono due rette e queste due rette si incrociano dove si vanno ad incrociare nell'origine allora qui in qualche modo lo vedremo poi meglio quando prendiamo il teorema del DIN questa non è una curva di livello cioè è una curva di livello è fatta in due pezzi cioè non posso parametrizzare con un'unica parametrizzazione questi due pezzi devo parametrizzare y uguale a x e y uguale a meno x separatamente ma allora e ognuna delle due ha un versore tangente vedete questa c'ha questo versore tangente e l'altra c'ha questo versore tangente una retta un versore tangente e una retta è lungo la retta stessa e allora come fa il gradiente a essere ortoconale a entrambe perché se siamo in questo punto qui vuol dire che il nostro gradiente deve essere ortoconale alla cuba di livello ma la cuba di livello è fatta di due pezzi può essere che il gradiente sia ortoconale a entrambi i pezzi visto che questi due vettori sono diversi sì perché se voi fanno il gradiente non è più niente quindi come vedete questa condizione ci vuole per forza perché qua la condizione rimane costante sia se mi sposto lungo questa retta sia se mi sposto lungo quest'altra retta quindi questo gradiente deve essere ortoconale a questo spostamento a questa direzione eppure a questa e quindi le parezioni e infatti ne lo dice questa retta quindi questa cuba di livello qui si chiama cuba di livello perché f di x f di x uguale c è una cuba di livello questa definizione però in questo punto presenta dei problemi se la vogliamo parametrizzare allora quindi da questa situazione noi ancora non abbiamo parlato stiamo all'anzo della fusione f non stiamo ancora parlando di t però da questa situazione già possiamo intuire vari problemi che poi dovremo affrontare intanto abbiamo capito che il gradiente ortoconale lo può vedere il gradiente indica la direzione di massima tendenza della funzione ci conviene molto spesso per capire come è fatto il grafico di una funzione di due variabili non disegnare il grafico ma ci conviene disegnare il dominio e riportare nel dominio il gradiente in vari punti o meglio ancora le punte di livello per esempio se io voglio disegnare voglio far capire come è fatta questa funzione qui cosa posso fare dove sta io lì ecco allora andiamo a continuare a continuare quest'esempio quindi stiamo sempre solo parlando di una funzione di più variabili in questo caso di due variabili oltretutto estremamente semplice allora io ho la funzione f di xy uguale y4 meno x quadro poi il gradiente di x è calcolato in x uguale a meno 2x 2y e poi ho le punte di livello sono in x quadro meno x quadro uguale a 5 ora io posso disegnare questo gradiente in vari punti lo posso disegnare dappertutto no perché dovrei disegnare con un'infinità di vettori il vettore lo applico nel punto dove sto calcolando di credito però ne posso disegnare un po' certamente se ne disegno tanti se ne disegno il 2000 qua solo ci stanno 2300 e non si capisce più niente soprattutto se ne disegno non in scala se ne riduco un po' in scala in maniera tale che le freccette non si sovrappongono faccio piccolini magari qualcosa si capisce però devo sempre disegnare 2000 se invece disegno le curve di livello e quante ne devo disegnare vediamo un po' cominciamo a disegnare questa era la curva di livello e qua sappiamo che il livello è uguale a 0 allora qua ci metto 0 0 0 poi disegno un'altra curva di livello allora diciamo che questa curva di livello passa per il punto 1 a 0 e questa qua meno 1 meno 1 poi disegno un'altra curva di livello e qua siamo a 1 è chiaro che ne posso disegnare altre ne ho disegnate in realtà soltanto 3 anche se in realtà queste 3 hanno 6 pezzi però la situazione è già abbastanza chiara anche se ne ho disegnate solo 3 se io andassi a fare il disegno della mia funzione il disegno della mia funzione sarebbe del graffio della mia funzione sarebbe una cosa fatta così una sella questo lo sto valutando in prospettiva questo è l'asse x questo è l'asse y e questo è l'asse z se adesso vado a segnare il grafico perché il grafico sta nel prodotto cartesiano x y z 0 uguale a x quindi come vedete lungo l'asse y la funzione si comporta come y quadro perché x uguale a 0 è costante lungo l'asse x la funzione si comporta come meno x quadro e questa è la situazione che abbiamo provato in analisi 2 quando abbiamo fatto in assi minimi liberi questa funzione questa funzione aveva l'unico punto stanzionario libero dove si annulla il gradiente e questo mi dice che è nell'origine però questo punto qui non era né un massimo né un minimo era quello che abbiamo chiamato punto 6 perché quando andiamo a fare una matrice siana la matrice siana adesso viene meno 2 e 2 meno 2 0 0 2 è costante in tutti i punti vale meno 2 0 0 2 poteva anche essere variabile ma comunque nel punto in questione vale meno 2 0 0 2 perché le stiamo facendo da ricordare che è più stanzionario e gli autovalori di queste siana sono 1 negativo meno 2 e 1 positivo 2 se vi ricordate in analisi 2 abbiamo visto che questo corrispondeva al fatto che il punto localmente non era né il massimo né il minimo perché se mi sposto in una certa direzione la funzione si comporta diciamo localmente quella direzione è un massimo e l'altra direzione è un minimo e quindi complessivamente abbiamo un punto 0 quindi questo si vede a livello guardando la giusta di livelli perché voi vedete noi qua siamo a meno 1 se noi tagliamo a livello meno 1 tagliamo a livello meno 1 cosa viene viene vengono al livello meno 1 vengono 2 viene un'iperbole sto tagliando al di sotto del punto sella quindi io taglio questa parte della sella che è una sella che si estende infinitamente mi dà un ramo di perbole e l'altra parte l'altra parte mi dà l'altra parte quando taglio al di sopra del punto sella i due rami di perbole mi vengono al contrario cioè mi vengono questi rami di perbole quando taglio a livello 1 quando taglio esattamente sul punto sella mi vengono le due rette quando la figura diventa difficile come vedete il problema è in prospettiva però si capisce io taglio esattamente sul punto sella miracolosamente questo taglio mi dà due rette mi taglia la sella lungo due rette si intuisce quindi la lezione qui dobbiamo ritenere da tutto ciò è che a cosa servono le curve di livello le curve di livello oltre che a capire il grafico della funzione per esempio quando andate a leggere una cartina di topografia se dovete leggere la cartina topografica dei mondi che stanno dietro cosa molto fatta che è molto usata durante il secondo governo mondiale nella cartina topografica voi normalmente avete le curve di livello dell'altezza no? quelle si chiamano in genere iso-ips ok? e iso-ips diciamo iso vuol dire stesso stesso livello però in quel caso iso-ips e le iso-ips in questa funzione sono fatte così a cosa servono queste curve ci servono a due cose prima di tutto sappiamo che in ogni punto il gradiente è ortogonato alla punta di livello o per meglio dire dobbiamo paralizzare localmente la punta di livello quindi prendere il versore tangente poi fare l'ortogonato da che parte siccome gli ortogonati ce ne stanno due da che parte punta il gradiente punta verso i livelli crescenti quindi da meno uno sale da questa parte qua c'è zero se zero fosse salvo di qua il gradiente avrebbe puntato dalla parte opposta quindi qua anche qui il gradiente punta da questa parte qui il gradiente punta da questa parte quindi se voi seguite diciamo volete salire potete seguire delle diciamo direzioni che di volta in volta se volete salire nel modo più veloce possibile di volta in volta sono ortogonati delle curve che saranno in ogni punto diciamo di intersezione con le curve di livello saranno ortogonati si possono disegnare questo non è non lo vogliamo fare chiaro? ah detto questo ricordatevi anche una cosa proprio semplicissima banale ma che ci vuole le curve di livello oltre a ricordarsi che sono ortogonate a gradiente quindi primo fatto da ricordare il curve di livello è gradiente sempre ortogonare il gradiente punta verso i livelli di 200 ma banalmente le curve di livello separano i livelli più bassi da livelli più alti cioè nel momento in cui qua c'è il meno 1 da qua la funzione su questa zona queste due zone la funzione è il minore di meno 1 e il mezzo è il maggiore meno e sulle curve di livello qua quindi questo è un fatto banale ma va ricordato ok adesso andiamo a studiare il nostro primo problema in un esempio il nostro primo problema di massimo o minimo sull'insieme compatto di here allora prendiamo t prendiamo t bellissime prendiamo x quadro più 4y4 minore o meno di 4 allora andiamo a disegnir questa è un'ellisse è un problema molto semplice però non ho voluto mettere la funzione allora come è fatto il nostro insieme sappiamo bene che è un'ellisse questa ellisse passa ai semiassi lungo la 6x lungo la 6y il semiasse lungo la 6x è lungo 2 mentre il semiasse lungo la 6y è lungo solo 1 quindi abbiamo abbiamo una situazione di questo questo è il 2x e questo è 1x la evoluzione non è perfetta ma più o meno sembra meglio di disegnare l'ellisse ok ok allora cominciamo a disegnare alcune curve di red in questo allora le curve di red stavolta per non confonderle con la frontiera dell'ellisse a le disegno tratteggiate allora le curve di red sono le stesse dipinte allora e grazie naturali l'ellisse 30 l'ellisse 4 21 22 lamm di 24 24 a prendere il livello f di x uguale a 1 e poi prendiamo f di x uguale a meno. Se andate a disegnare la truppa di livello con 1, vi viene una volta e di sotto. Qui abbiamo il livello c uguale a 1. Forse mi conviene disegnare lo stesso piene perché se no... Allora, l'insieme, la frontiera dell'insieme la faccio azzurra e le punte di livello a questa è la c uguale a 0. Vengono sicuramente meglio se non le insedi a raffeggiare. Poi prendiamo quella con c uguale a meno 1. Questa è quasi a un bato più o meno così. Allora, cosa possiamo dedurre da questo grafico? Da questi disegni fatto male. Beh, già guardando la figura potremmo dedurre quanto vale al massimo la funzione e dove sono i punti di massimo. perché? Notiamo che la curva di livello 1 tocca la frontiera dell'insieme. Allora, punti massimi e minimi, quando io vado a studiare il massimo di F su P o il minimo di F su P, io per prima cosa, prima di fare questo, dovrei vedere se il massimo sta dentro. Ma se il massimo fosse interno, dovrebbe essere un punto stazionale. Sappiamo che un punto stazionale il gradiente sia nulla. Questa funzione, l'unico punto dove il gradiente sia nulla, è l'origine. che è sì un punto stazionale, ma abbiamo visto prima che per la funzione non era un punto localmente né di massimo né di minimo, ma era un punto setta. Questo perché i punti di massimo e minimo locali, per funzioni più variate, avevamo fatto già analisi nulla. Quindi, punti di massimo o minimo relativo interni non ci sono, e se non ci sono di massimo o minimo relativo non ci possono manco essere di massimo o minimo assoluto interni. Quindi, punti di massimo o minimo della funzione, se non stanno all'interno, devono stare per forza sulla frontiera. Allora, io dico che i due punti di massimo assoluto della funzione sono il punto 0,1, questo lo chiamo B2, e il punto 0,1 che chiamo B2. Questi sono punti di massimo. Come faccio a dirlo? Perché la posso dirlo? Vediamo un po'. Innanzitutto, la funzione la vale 1, perché vale 1? Perché la curva di livello ci passa. La curva di livello come ci passa? Se io faccio 0,1, f vale 1. Se io faccio 0,1, f vale 1. Ma, andando a guardare la figura, cosa scopro? Bene, io qua ho tutta la figura, quindi scopro che il mio T, cioè l'insieme è tutto T, cioè dove devo massimizzare, io in questa zona qua. Quindi T, rispetto alla curva di livello, come sta? Sta tutto da una parte. Vedete, sta tutto da sotto. Cioè l'unico punto in cui la mia curva di livello, agli unici due punti in cui la mia curva di livello tocca a T, sono questi qua. E T sta nella zona dove la funzione è minore o uguale di minore. Quindi, se ci ricordiamo il fatto che le punte di livello separano la zona dove la funzione è minore di C, da dove è maggiore di C, e qua sta tutto nella zona dove è minore di 1, quindi qua la funzione vale 1, in tutti gli altri punti la funzione è minore di 1. E quindi, senza fare un po' di fortuna, abbiamo trovato i punti di massimo. Questi sono i due punti. E se voglio trovare i punti di minimo, vediamo un po', questo fatelo voi, ditemi subito. Quale curva di livello che io considero? Secondo voi. Quale sarà una curva di livello fortuna? 5-2 e 5-2. No. Non hai sbagliato del tutto, però come l'hai detto è sbagliato. Il livello che devo considerare è a meno 4. Perchè? Se vado a considerare il livello meno 4, a meno 4 passa per 0,2. e passa anche per meno 2,0. Questo è il livello meno 4. E poi, per ovvia ragione di simmetria, questa zona qua e questa zona qua sono commesse. Si toccano solo in questo punto, questo sta tutto a sinistra della curva di livello, è stato tutto a destra di quest'altro ramo della curva di livello. Quindi, il mio ellisse, quindi questi punti, li diamo P3 in punto 2,0 e P4 in punto meno 2,0. Li diamo, questi sono i punti di minimo, e la funzione è F di più 1 uguale F di 2 vale 1, mentre la funzione nel punto P3 e nel punto P4 vale meno 4. Quindi io, in questo caso molto semplice, aiutandomi con la misura e con le curve di livello, e con un po' di intuito posso scoprire che la mia funzione su questo insieme, compresa da meno 2 a meno 4, i punti di massimo stanno qua e i punti di minimo stanno qua. Fine. Il problema è che non posso andare sempre con l'intuito, perché se io qua ci metto, che ne so, più 2x, la funzione cambia un po'. Le curve di livello, ci metto più, 0.1x. Quando ho messo più 0.1x, è una piccola perfetturazione di quella funzione, quella storce tutte le curve di livello. quindi cambia un pochino, i punti di massimo e di minimo si spostano un po'. E devo vedere dove hanno finito. E non lo posso fare più, appunto. Così facilmente. Allora, ci vuole una qualche osservazione. Allora, guardiamo bene. Nel punto di massimo che succede? Il punto di massimo, prendiamo più 1 e più 2. La frontiera di T La frontiera di T era l'insieme delle x in x, no? tali che x quadro più 4y quadro era quanto altro. Ricordate questo? Perché T era dove x quadro più y quadro era minore o uguale a 4. Erano insieme chiuso e limitato. Questa è l'ellisse. Questa è l'ellisse come curva. Cioè la frontiera di T E a questa frontiera di T appartiene sicuramente il punto 0.1. Quindi il punto 0.1 sta su questa 0.1 appartieneva all'insieme delle x, y tali che y quadro meno x quadro era una lunga. Cioè la lunga di livello 1 della lunga età. Allora, che vuol dire? andiamo a prendere queste due funzioni. Prendiamo questa qui chiamiamola f x e andiamo a fare il gradiente di f nel punto 0.1 il gradiente di f era meno 2x 2y valutato 0.1 viene 0.2 quindi il gradiente della mia funzione f è piccolo viene 0.2 andiamo a fare gradiente quest'altra funzione chiamiamola f grande x anzi poi scriviamolo così non ci rischiere 4 più 4 più 4 uguale a 4 scriviamo tutto 4 per il momento che è uguale a 0 allora quello che è uguale a 0 lo chiamiamo f grande x f grande x y uguale a 0 descrive la fungina di 2 andiamo a fare il gradiente di f grande nel punto 0 il gradiente di f grande è 2 x 8 y che nel punto 0 1 viene 0 quindi quest'altro gradiente come come sono i due gradi? 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 proporzionati cioè paralleli questo è il 0 2 e questo è il 0 punto e in caso che siano paralleli... no per forza devono essere paralleli perché devono essere per forza paralleli? allora ricordatevi che questa curva di livello deve lasciare lasciamo perdere poi la curva di livello potrebbe in altre situazioni potrebbe pure reintersecare l'insieme quindi ma localmente se io vado a zoomare qua sopra l'insieme deve stare tutto da una parte altrimenti quello non è un punto di massimo locale allora faccio uno zoom del mio insieme se la mia curva di livello fa così può lasciare localmente l'insieme tutto da una parte no perché questi stanno di qua e questi altri punti stanno di là quindi per esempio qua livello c uguale a 1 e qua è c minore di 1 e qua è c maggiore di 1 quindi la mia funzione di qua vale di più e di qua vale di meno questo punto qua può mai essere un punto di massimo minimo locale? no perché se mi sposto da questa parte nell'insieme vedete nell'insieme diciamo che l'insieme era questo allora qui ho dei punti dove la funzione vale più di 1 e qui ho dei punti dove la funzione vale meno di 1 è chiaro che sia quindi affinché la curva di livello lasci l'insieme tutto da una parte ma allo stesso tempo tocchi l'insieme che ci vuole? come può essere? beh così può essere cioè le due curve cioè quella che descrive f grande di xy uguale a 0 e quella che descrive l'unica di gara come devono essere? si possono secare? no perché se sono secanti tra di loro l'insieme sta un po' da una parte un po' da una parte però se non sono secanti come devono essere? se vi buttate caldere in piedi se non sono secanti devono essere? come sono questi due? come le chiamereste? sto aspettando eh? queste si toccano solo in un punto se una delle due fosse stata una retta come l'arresti chiamata? e come le chiamereste? tangente perché hanno la stessa se andate a fare i versori di tangente dell'una e dell'altra è lo stesso e deve essere lo stesso perché se non è lo stesso ricordatevi che per piccoli spostamenti o mi sposto lungo la ruba o mi sposto lungo la tangente è la stessa cosa allora per piccoli spostamenti se le versioni tangenti non coincidono e si incrociano per forza allora per forza abbiamo questo tipo di situazione che diciamo lasciamo stare se poi l'insieme è questo e quello di sopra eccetera ma prendete soltanto i punti della frontiera di T i punti della frontiera di T se si incrociano con i punti della frontiera di livello è un po' stanno di sotto sul livello più basso e un po' stanno sul livello più alto quindi per forza quello non può essere né un punto di massimo né un punto di minimo quindi qual è una condizione necessaria affinché un punto P appartenente alla frontiera di T possa essere massimo o minimo locale relativo per F è che il gradiente di F calcolato in P deve essere ortogonale al diciamo deve essere parallelo al gradiente di F calcolato in P ricordatevi che siamo in R2 e quindi questi qua sono due vettori T questo deve essere uguale alla per l'opportunità esiste lambda appartenente a l'evo tale se questa condizione non è soddisfatta innanzitutto vuol dire che il gradiente di F piccolo non è 0 supponiamo anche che il gradiente di F grande non sia 0 mettiamo come ipotesi il gradiente di F grande è diverso se no abbiamo problemi poi lo vedremo questo con il telema dell'inferenza mettiamoci questo cortisi perché è necessario perché se questa condizione non è soddisfatta se io la voglio dimostrare analogicamente se io vado a prendere un punto Q F di Q è uguale oppure F di P più V è uguale a F di P più lo spostamento V più V scalare il gradiente di F nel punto P più orricolo di norma D ok allora siccome quando vado a prendere V come il il vettore diciamo V vado a prendere V ortogonale al gradiente di F in P questo si può fare perché il gradiente di F diciamo se io mi muovo lungo la frontiera di T per piccoli spostamenti praticamente V è ortogonale al gradiente di F di T allora quando vado a realizzare questi piccoli spostamenti cosa scopro? che questo prodotto scalare non fa 0 perché questo è ortogonale a questo ma questo non è proporzionale a questo e allora questo incremento non è nullo e allora spostandomi da una parte la funzione aumenta spostandomi da un'altra parte la funzione aumenta diminuisce poi lo facciamo con un esempio con i numeri è lo stesso ragionamento di prima semplicemente trascritto ok però 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 andiamo a esaminare meglio la situazione